E' come un oggetto antico, un oggetto antico che è finito in tutte le sue parti per un ordine che è quello della necessità. E se io devo ottenere legato questo a questo, questa soluzione lo rende anche formalmente, anche formalmente gradevole. A volte sto davanti a un pezzo di legno e lo guardo, so che potrei tagliarlo a pezzetti e fare delle cose, ma perché devo farlo se lui è questa cosa meravigliosa? Non è stato così, no?